L'amministrazione comunale di Parra ha voluto attivare uno sportello legale per il cittadino. Sì, un'idea dell'amministrazione comunale nata all'inizio di quest'anno che abbiamo poi sviluppato insieme al segretario comunale pubblicando questo bando in cui chiedevamo manifestazioni di interesse da parte di avvocati, di legali, che potessero fornire appunto una consulenza gratuita ai nostri cittadini in una fase appunto iniziale. Cosa comporta questo sportello legale gratuito? C'è a disposizione presso gli uffici comunali il primo e il terzo mercoledì del mese, sempre su appuntamento, un legale che è poi l'avvocato Andrea Simoncelli che si è giudicato appunto questo bando che abbiamo pubblicato, che è disponibile a fornire una prima consulenza per questioni diciamo consulenziali, quindi a livello magari contrattualistico, se ci sono dei dubbi relativamente alla legge vigente o appunto a un livello proprio di fase iniziale, consulenziale da parte di questo legale. Ovviamente una consulenza poi legale più approfondita richiede un passaggio successivo che naturalmente non sarà più gratuito, però diciamo che con questo primo strumento si inizia già a dare un orientamento al cittadino e quindi dare appunto una prima consulenza legale. Il servizio appunto è completamente gratuito, non comporta alcun vincolo poi con il legale in questione, quindi poi successivamente il cittadino è liberissimo di rivolgersi a un altro legale e vi si accede sempre previo appuntamento da prendersi almeno una settimana prima presso gli uffici della segreteria comunale, quindi o presentandosi direttamente o via email oppure telefonicamente al 70 1002 interno 6. Costi per l'amministrazione comunale? Per l'amministrazione comunale è altrettanto gratuito come per il cittadino, quindi l'avvocato appunto non richiede alcun tipo di rimborso e si tratta quindi di un doppio vantaggio sia per lui che ha la possibilità di entrare a conoscenza con i nostri cittadini e appunto sviluppare dei contatti, sia per noi che appunto possiamo offrire questo servizio completamente titolo gratuito e naturalmente cosa più importante per i cittadini che hanno a disposizione uno sportello legale ad hoc.